Io penso che Andrea Giambruno abbia detto in modo frettoloso e assertivo una cosa diversa da quella che è stata interpretata dai più. E cioè in quelle parole io non leggo il fatto di dire se tu giri in miniconna ti possono violentare. Leggo una cosa simile a quella che mia madre mi diceva quando uscivo di casa da ragazza. Occhi aperti e testa sulle spalle, cioè purtroppo gli sopratori esistono, non bisogna abbassare la guardia. Sono diciamo è un concetto quello di non abbassare la guardia, di cercare il più possibile di rimanere presenti a se stessi, di fare del proprio meglio per non mettersi nella condizione di appunto consentire a questi animali di fare quello che vorrebbero fare. Penso che insomma questo sia un consiglio che molti genitori darebbero ai propri figli. Occhi aperti e testa sulle spalle, il più possibile. Mia madre me l'ha sempre detto, non ci trovo nessuna giustificazione per chi stupra una ragazza. Ci trovo il fatto di dire ragazze dovete stare attente perché purtroppo è un fenomeno che vediamo ogni giorno, esistono queste storie. Occhi aperti e testa sulle spalle, questo ci vedo. Dopodiché, guardi la ringrazio per la domanda perché io sono mesi che qualsiasi cosa Andrea Giambruno dica vengo chiamata in causa. Allora vorrei capire qual è la lettura che voi date del concetto di libertà di stampa. Perché per come la vedo io, un giornalista non dice in televisione quello che pensa la moglie. Spero, la mia idea di libertà di stampa è questa. Cioè che io non vengo chiamata in causa per le cose che un giornalista dice nell'esercizio della sua libera professione e che quel giornalista non viene attaccato nell'esercizio della sua libera professione più di quanto sarebbe normalmente attaccato perché vuole bene a me. Questa è la mia idea di libertà di stampa. E quindi vi prego per il futuro di non chiedermi conto di quello che un giornalista nella libera espressione del suo operato dichiara in televisione. Perché non ritengo di dover essere io a dirgli che cosa deve dire, non ritengo di poterlo fare perché io credo nella libertà di stampa davvero. Allora Grazie.